buonasera signori ecco a voi la terza giornata di campionato snook up ajax contro le speranze 1 a 0 per le speranze vediamo questo contropio delle speranze antonio rosati ancora lui capitano bomba deviazione 22 rosati capitano delle speranze il bomber siccia angelo difendere la panacea verso rosati di punta davvero calciatore di calcetto calcio a 5 angolo per speranze sottolineiamo anche che l'ajax purtroppo gioca sta giocando senza il numero uno perché ha detto doveva scegliere con la ragazza l'anniversario non poteva mancare all'appuntamento con la sua ragazza rimesso laterale per l'ajax abito sergio stanziano vediamo la casacchina staff ventre andrea difensore dell'ajax troisi amato tutti i grandi giocatori dell'ajax ventre vediamo anche la panchina santo nicola di poseria mister fatti lancio 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 l'angelo gira gira di l'assenta di gentile giro chiudi l'ho angelo seccia ricordiamo il migliore attaccante del della scorsa edizione della spring cup da solo non c'è nessuno che c'è il taglio ecco il moccano rosario amato giusto rosati seccia ancora rosati guardatele sul grande giocata seccia si apre verso il numero 7 che non ricordo bene il cognome contro il piede dell'ajax ripetiamo il terzino destro che si apre verso il certo capista ventre salta l'uomo ma non in maniera corretta vediamo la bomba di ventre lo sento il dribbling troise col nuovo taglio ultima sione chiudiamo il collegamento falletto il vantaggio l'arbitro ancora ventre guardatelo controviede delle speranze troppo troppo nooo che combina rosatino chiudiamo il collegamento ringraziamo i gentili spettatori un saluto dal campo kennedy e un ringraziamento a tutti i partecipanti della snow cup ciao ragazzi